Amici di Yant.it, ben ritrovati con Matteo Porfiri, siamo ad Ascoli, in particolar modo al Palazzo dell'Arengo, insieme al Sindaco, l'Avvocato Guido Castelli. Il 2017 Sindaco ormai sta terminando, è nella sua fase finale, ma sta arrivando un 2018 che speriamo possa essere ricco di progetti e di belle notizie per la città. Però parlando proprio dell'anno che si sta per concludere, cogliamo l'occasione per chiederle quali sono stati i principali risultati che l'amministrazione comunale di Ascoli è riuscita a raggiungere e magari anche se c'è qualche rammarico per qualcosa che magari si voleva fare ma non si è riuscita a farlo. Allora è stato un 2017 complesso, articolato e che ha richiesto grande lavoro anche perché non dimentichiamo che gli strascichi del terremoto, soprattutto dal punto di vista burocratico e amministrativo, li stiamo vivendo proprio in queste settimane, in questi mesi. Il 2017 è stato veramente un anno di grandissimo affaticamento amministrativo perché purtroppo in un'Italia dominata dalla burocrazia non sono mancati cavilli, lacciuoli, norme, cruciverba, normativi, amministrativi che hanno imposto veramente un super lavoro alla nostra struttura amministrativa. Quindi diciamo un grazie alla struttura amministrativa che ha dovuto così pesantemente affrontare anche quello che è un sentimento di una comunità fortemente vulnerata, colpita, lesionata psicologicamente dal terremoto oltre che dalla crisi che si è messa insieme al terremoto. Però se questa è la nota dolente ci sono almeno due grandi notizie che sicuramente io richiamo la mia mente nel momento in cui parlo del 2017. I due grandi finanziamenti senza precedenti che il Comune di Ascoli Piceno è riuscito ad ottenere, uno dall'Europa all'altro dallo Stato. Quello dall'Europa è l'IT Area Urbane, un progetto di quasi 7 milioni di euro che ci consentirà di allestire in maniera innovativa, funzionale e moderna alcuni presidi importanti del nostro centro storico. From Past to Smart, ovvero dal passato fino a essere intelligenti è la chiave che consentirà di ampliare l'ostello della gioventù nella zona di San Pietro in Castello dove faremo anche un nuovo parcheggio più ampio, più importante e addirittura una passerella che ci consentirà di svalicare dall'altra parte del Tronto fin verso via Marcello Federici. Sempre a valere su questo progetto esistono tutta una serie di interventi che consentiranno di sistemare la viabilità cittadina, di renderla smart e intelligenti e di fare investimenti importanti che culmineranno nel 2018 però con l'inaugurazione del Teatro Filarmonici. Infatti anche questo investimento ormai quasi perfezionato si è giunto alla fine e nei primi mesi del 2018 potremo dopo 33 anni restituire alla città questo piccolo ventidio così bello, così prestigioso, così elegante ma anche così utile per una città che vuole fare della cultura il proprio perno fondamentale. Poi c'è il secondo progetto di 18 milioni che è quello destinato alle periferie ovvero a Monticelli, il nuovo ponte di Monticelli che da Croce di Tolignano consentirà di sgravare il quartiere di Monticelli da quel traffico veicolare così pesante, così ossessivo che si sviluppa lungo l'asse centrale anche in ragione della presenza del nostro ospedale. Sarà possibile con questo ponte all'altezza di Croce di Tolignano per coloro che vogliono andare verso est di alleggerire l'asse centrale di Monticelli e di arrivare invece nella zona dell'assassino come dicono gli ascolani verso la Picena Prutina in maniera tale che l'innesso sulla superstrada possa rendere più funzionale tutte quelle percorrenze su Monticelli che si candida ad essere un quartiere non più certo dormitorio, non lo è da tempo ma veramente una perla della nostra città. Ma sempre grazie a questo secondo importante finanziamento per le cosiddette periferie vi è anche il finanziamento del Parco Fluviale. Il Parco Fluviale è il parco che realizzeremo lungo l'asta del fiume Tronto che da San Pietro in Castello fino al ponte di San Filippo attraverso le nucleazioni di aree verdi, ricreative e sportive consentirà idealmente di collegare il cuore del centro storico all'altezza appunto di San Pietro in Castello con la parte moderna di Monticelli. Il tutto individuando degli ambienti che saranno fruibili da famiglie, da pedoni, da sportivi, da persone che semplicemente vogliono assaporare il gusto della natura quasi primordiale di tutta la zona del Tronto, di tutte le rive del Tronto su cui noi abitiamo ma di cui non ci accorgiamo. Perché l'ascolano sa che ci sono due fiumi, il torrente Castellano, non valorizza abbastanza e questo è il secondo tema. Detto fra noi poi c'è un 2017 che sarà sicuramente ricordato e questo è un grande sforzo che abbiamo chiesto agli ascolani per la grande campagna dell'estendimento a tutta la città del sistema di Punta Porta. Questa è stata veramente una rivoluzione. Ascoli io l'ho presa in mano nella mia guida amministrativa quando la percentuale di differenziazione del rifiuto era al 34%. Noi oggi siamo sopra il 60% grazie ad un impegno che devo dire ha registrato una grande collaborazione da parte degli ascolani i quali senza strepiti nella gran parte e nella maggioranza dei casi si sono industriati per applicare la nuova metodica che sicuramente è un'innovazione che poteva e ha creato qualche problema su cui cercheremo di lavorare. Ma non era scontato avere un risultato così immediato e una decisione così convinta e spontanea da parte di una città che, ripeto, si è impegnata nell'applicare un metodo che è unico in tutte le marche. Anche perché solo nel capoluogo di provincia Ascoli-Piusceno si applica un principio del porta-sporta-spinto su tutte le matrici. Ancora oggi alcuni comuni ritenuti ricicloni, anche comuni vicini, sull'umido ad esempio usano il sistema con il cassonetto stradale. Noi invece abbiamo voluto prendere la rincorsa e partendo da quel 34 abbracciare un risultato che andrà sicuramente a favorire nel tempo la possibilità di alleggerire la Tari. Questa tassa tanto odiata, questa tassa che purtroppo noi siamo stati costretti ad alzare pur mantenendosi al di sotto della media nazionale ampiamente. Voi considerate che la Tari pro capita in Italia viaggia sui 300 euro. Noi siamo a 202. Certo, eravamo fino a qualche anno fa a 140, l'aumento è stato importante, ma è stato un aumento imposto dalla, consentitemi, una sola volta di fare polemica in questa intervista, dissennata scelta della provincia di Ascoli-Piusceno di penalizzare la discarica di relluce. La penalizzazione della discarica di relluce ha fatto sì, ahimè, che i costi sicuramente vantaggiosi che venivano praticati da relluce e dall'impianto di abbancamento, la discarica dei rifiuti ascolani e provinciali, bene, questo blocco, che è stato un blocco secondo me politico, perché a qualcuno dispiaceva evidentemente che il ciclo dei rifiuti fosse così sfidante, così performante, ad Ascoli ha fatto sì che vi fosse questo aumento così importante. Giusto per dare due cifre, noi andiamo verso un costo di abbancamento a tonnellata con l'attuale sistema di 120-125 euro a tonnellata. Prima, quando c'era relluce, eravamo sugli 80-75, quindi capite che 50 euro in più... Per poter fare insomma un po' un confronto. Un confronto, però da questo punto di vista io non posso che ricordare i miei concittadini, ma più in generale ai cittadini della provincia, perché non dobbiamo dimenticare che relluce su cui noi stiamo lavorando per renderla di nuovo attiva, è una grande infrastruttura utile per tutti i comuni della nostra provincia, quindi quando torneremo a relluce, se ce la faremo, se riusciremo a vincere alcune ritrosie inspiegabili della provincia, tutti gli ascolani e tutti i piceni, tutti gli abitanti della nostra provincia, potranno beneficiare di questi 50 euro in meno a tonnellata e questa cosa produrrà un effetto immediato anche sul piano della saccoccia, del portafoglio della signora Maria, del signor Mario e di tutti gli ascolani. Però io una cosa te la devo dire, infine se ancora ho qualche secondo per dire che la più grande soddisfazione è stata quella di vedere in una classifica che non è il ranking tirato fuori da un giornalino di quarta serie, ma dal sole 24 ore, la classifica sulla qualità della vita che ha preso in esame tutta una serie di parametri che riguardano appunto il come si vive nelle città capoluogo della nostra Italia, ebbene Ascoli è il risultato non solo al quindicesimo posto in tutta Italia, cioè fatto cento le città italiane, Ascoli è la città che si colloca al quindicesimo posto per qualità, intensità e bellezza della vita vissuta, ma addirittura noi siamo stati inseriti e grazie a questo dato siamo riusciti a ottenere quel piazzamento quindicesimo così importante insieme a città del nord e del centro nord, ebbene grazie soprattutto alla nostra propensione alla innovazione. Ascoli è prima davanti a Milano per le caratteristiche e gli investimenti che ha saputo destinare alle cosiddette start-up innovative. È il lavoro fatto da un incubatore di impresa tecnologica avanzata che guarda al futuro e che coinvolge giovani, che sta lavorando in maniera piuttosto determinata per far sì che siano sempre di più i giovani che un po' da tutta Italia vengono ad Ascoli per ottenere la validazione di progetti nell'ambito della nuova economia digitale. Quindi senza dimenticare l'importanza del manifattoriero, noi sappiamo di essere nelle condizioni di poter offrire un po' a tutti la possibilità di rischiare e di investire in un campo che sicuramente è il campo che domina le prospettive future della nostra modernità. Insieme a questo dato ricordo che quella posizione così vantaggiosa e prioritaria nella classifica è stata anche garantita dal numero e della qualità degli eventi e degli spettacoli, dall'intensità della pratica sportiva e quindi dalla forza del nostro sistema sportivo associazionistico, oltre che dalla presenza, sito importante, di sale cinematografiche nel nostro territorio. Insomma fa piacere senza indugiare in vanità di sorta, constatare come sia sempre utile e valido l'antico principio secondo cui poco valgo se mi giudico, molto se mi giudicano gli altri. In questo caso gli altri sono il sole 24 ore, tutt'Italia ha parlato di questa posizione, dobbiamo essere più consapevoli della qualità della vita di cui possiamo godere la nostra città. Delle potenzialità che ci sono. Delle potenzialità, quindi capisco che i problemi non mancano, però dobbiamo avere uno sguardo e degli occhi nuovi per poter ringraziare sempre e comunque chi ce l'ha dato di poter disporre di una città così bella e importante. La cosa deve essere uno sprone per fare sempre di più e sempre meglio perché i problemi non mancano, però dobbiamo cercare se è possibile superare quell'antico complesso che ci viene da cecco d'asco di vedere qualche volta il bicchiere mezzo pieno e non mezzo vuoto. Non è complicato, non è impossibile, è facile, quindi io affronto il 2018 forte della consapevolezza che i problemi non mancano perché questo è il tempo che il nostro Signore ci ha assegnato per vivere, per amministrare e per intervistare, però dipende da noi riempire questo tempo di propositi importanti, significativi, generosi nei confronti di tutti in maniera tale che magari da quindicesimi nella classifica in Italia si possa anche salire, perché no? Un augurio per concludere agli ascolani, insomma, in vista delle festività natalizie e ovviamente del nuovo anno, anche se un po' un augurio è già stato rivolto, diciamo. Certo, però non smetto mai di augurare agli ascolani la possibilità, la voglia di essere sempre positivi verso le cose che ci dovranno accadere, consapevoli dei problemi, ma l'augurio è quello di poter utilizzare anche qualche volta quella che è la rabbia che ci sale per poterla trasformare in energia positiva sempre più proiettata verso un futuro difficile, spesse volte ci sembra opaco ma possibile e poi tanta serenità in famiglia e tanta salute perché siamo di passaggio in questa vita e quindi dobbiamo essere sempre consapevoli che quello che ci viene dato è sempre qualcosa in più e che dobbiamo custodirla nel rispetto degli altri, della nostra famiglia, delle cose che spetta a noi fare, affrontare e risolvere. Ecco, l'augurio di non avere tanto la tendenza, la tentazione a chiedere agli altri di fare ma di mettersi in campo e di fare noi stessi perché la soddisfazione poi alla fine è sempre molta. Allora, grazie al Sindaco di Ascoli e l'Avvocato Guido Castelli, ai quali ovviamente rivolgo gli auguri da parte mia e di tutta la redazione di Iante. Un saluto a tutti gli amici che ci hanno seguito e l'appuntamento allora per il 2018. Di nuovo auguri a tutti. Ciao! Auguri a Iante! Auguri!